Colonello Forleo, un'intensa attività di indagine, oggi 300 uomini sul campo per sgominare un'organizzazione internazionale, insomma era un'operazione che nel territorio si aspettava da tanto. Quando abbiamo iniziato l'attività, oggi c'è la moda degli hashtag, con i miei ragazzi e i colleghi della Guardia di Finanza che considero anche io i miei ragazzi, come Serafino considera i carabinieri i suoi ragazzi. Ci siamo inventati l'hashtag io sono di San Salvo perché dovevamo dare una risposta, lo Stato doveva dare una risposta, doveva dare una risposta forte con l'impegno di tutte le risorse, le competenze e le professionalità, con una procura distrettuale che ci ha dato tutto l'appoggio possibile. Vi assicuro, voi potete bene immaginare che non si possono fare attività di questo tipo se non c'è una guida e un coordinamento forte e aperto a 360 gradi. La procura distrettuale dell'Aquila ci ha permesso di utilizzare tutte le possibilità investigative che prevede il codice di procedura penale, il che ha fatto sì di arrivare a una conclusione che dal punto di vista approbatorio credo sia fortissima. Con risultati per le forze di polizia notevoli e che credo sono convinto, certo avrà sicuramente positivissimi riflessi sul territorio. Perché? Perché smantellare il livello superiore del traffico di droga significa non rifornire il piccolo spaccio. Il piccolo spaccio è collegato alla piccola criminalità, ergo colpire i rifornimenti vuol dire permettere al cittadino di vivere più tranquillamente. La rete di spaccio, ci avete detto da dove arrivavano, quindi la sostanza stupefacente da diversi paesi europei, poi nel territorio fin dove si estendevano i confini dell'organizzazione? Vuol dire che oltre al territorio vastese, per territorio del vastese intendo ripercussioni, noi abbiamo fatto con la Guardia di Finanza perquisizioni anche nella zona di Termoli, siamo saliti fino a Pescara, abbiamo fatto arresti e perquisizioni a Genova, ad Ascoli Piceno, a Como, questo che vi dimostra che si stava ampliando. Sicuramente era un'organizzazione che stava per diventare, avere le caratteristiche di una vera e propria organizzazione mafiosa. Il nostro orgoglio è stato quello di poter averla stroncata prima che diventasse la prima organizzazione mafiosa o toccodona in Abruzzo. Sono stati anche diversi episodi criminosi, penso a delle sparatorie e altri episodi di violenza che adesso emergono appartenere a tutto questo filone. E' questo, abbiamo ricostruito le vicende criminali della zona del vastese collegandole a quello che era poi l'EF Motiv, la gestione del traffico e delle piazze della droga, con l'utilizzo di strumenti, sparatorie, aggressioni, che sono proprie di un'organizzazione strutturata. Considerate che noi abbiamo filmato i personaggi mentre indossavano i giubbotti antiproiettili e avevano armati, a dimostrazione della professionalità e dell'organizzazione dei sodali. Adesso le indagini come proseguono? Gli indagini proseguono sempre, nel senso che lanciamo l'Hastag, non ce ne andiamo. Quello che voglio dire è che un'attività non termina mai, bisogna sempre mantenere la pressione. Se noi non manteniamo la pressione dobbiamo pensare che nel giro di qualche anno ci possa essere un'altra organizzazione. Ecco perché la pressione non deve finire mai. Continueremo le nostre attività, analizzeremo tutte le attività criminali del territorio, vedremo se ci sarà la possibilità che qualche altro soggetto pensi di poter, sicuramente terremo la criminalità della zona sotto pressione. E' anche un momento per fare un punto della situazione, anche un plauso. Gli uomini che sono sul territorio, si parla sempre che le risorse in campo forse sono un po' poche rispetto alla complessità di un territorio, però adesso c'è la dimostrazione che anche forse in meno persone di quelle di cui ci sarebbe bisogno si riescono a fare le cose. Guardi, a parte che almeno per l'arma dei carabinieri l'organico delle compagnie su quella che io considero la fortezza Bastiani dell'Abruzzo sono a pieno organico, nonostante la media nazionale delle forze di polizia abbia un sottorganico dovuto alle vicende degli ultimi anni. Ma comunque la qualità del personale delle forze di polizia nel Bastese vi posso assicurare è di elevatissimo livello. Questa è la dimostrazione. Quello che voglio ribadire, purtroppo attività di questo tipo comportano tempo. Non possiamo permetterci di intervenire quando abbiamo già alcuni elementi. Noi vogliamo arrivare non all'arresto ma alla condanna. Una condanna elimina il problema. Colonnello, era un'organizzazione internazionale come l'avete definita per lo spaccio di sostanza stupefacenti che attingeva in vari paesi europei e poi diramava sul territorio? Sì, la caratteristica principale è che era un'organizzazione che era strutturata, quindi aveva una propria gerarchia, una base, una forma piramidale che stava egemonizzando quell'area, quel territorio, anche attraverso l'uso di mezzi violenti che impedivano in qualche modo ad altre organizzazioni di entrare in concorrenza su quel mercato illecito che è lo spaccio di sostanza stupefacenti. erano per lo più persone di nazionalità albanese ma anche romeni e ovviamente italiani. Hai fatto molte perquisizioni anche in qualche capannone, in attività commerciali, quindi si ipotizzano una sorta di riciclaggio per il frutto del provento dello spaccio? Sì, assolutamente sì. Stiamo svolgendo anche delle indagini di natura patrimoniale, ovviamente perché utilizzavano esercizi commerciali e ovviamente siamo alla ricerca adesso dei proventi illeciti che speriamo presto di poter sottoporre all'attenzione della direzione distrettuale antimafia per le necessarie misure di sequestro. Possono esserci dei flussi di denaro nel territorio anche verso altre attività commerciali che al momento non sono riconducibili alle persone arrestate? In teoria sì, però quello che noi abbiamo rilevato in quest'anno in mezzo alle indagini è che la maggior parte dei proventi ovviamente facevano rientro nel paese di origine che era qui nell'Albania. Non voglio sottacere che abbiamo in corso anche un'attività di carattere internazionale dal punto di vista delle indagini proprio perché se possibile vogliamo andargli a colpire anche nel loro paese di origine. Insomma c'è attenzione su questa parte d'Abruzzo che spesso ha invocato una maggiore attenzione proprio. Guardi, io sono affascinato dall'area di Vasto e di San Salvo perché credo che sia una delle porzioni di Abruzzo più belle però mi rendo conto che quel quadrante meridionale da sempre rappresenta un crocevia per tantissimi traffici illeciti e noi forze di polizia sia in fase di prevenzione quindi con il coordinamento del prefetto Antonio Corona ma anche con le attività di indagini coordinate dalle varie procure che operano in quel territorio abbiamo posto sotto una speciale lente di ingrandimento quell'area e credo che questa sia una risposta veramente importante che vogliamo soprattutto dare alla cittadinanza e agli amministratori locali che spesso ci hanno chiesto un maggiore impegno in questo senso. Grazie. Tutto bene? Sì. Grazie.